Eccola! Grande, è chiaro. Sono al piano. Sono al piano i voci. Wow. Wow. Tu parli quando io rido, tu ridi quando io piango, tu piangi quando io dormo, tu dormi quando io parlo, tu parli quando io ridi, tu ridi, quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di vent'anni ed entrambi comunque da meno di trenta. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore e lo vedi son tante. Le cose in comune che a farlo un elenco ci vogliono almeno tre ore. Allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni sessanta. Abbiamo due mani, due braccia, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Non sapevo che suonava lei, non sapevo che suonava lei. 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 Grazie a tutti.